A Milano succedono un sacco di cose belle in questo periodo, in particolare sabato, sabato questo, 3 ottobre, al pomeriggio, dalle 2 in avanti, in Ciazza del Cagnone, succede una cosa ancora più bella per i milanesi e per tutti noi. Una grande manifestazione per la vita, per i diritti, per la laicità, per la possibilità di scegliere, per dire effettivamente che siamo delle persone e che abbiamo un'anima, abbiamo la capacità di intendere e di volere e vogliamo poterla esercitare in qualunque momento della nostra vita e in qualunque tema si stia parlando. Io sono Lella Costa, io ci sono.